buongiorno e bentrovati ora breve aggiornamento sulla questione venezzi se avete visto il video che ho fatto qualche tempo fa se non l'avete visto alla fine troverete il link venezzi alla fine di un concerto alla sinfonica siciliana a palermo è stata criticata da un numero di orchestrali in maniera anche molto forte molto forte proprio a livello di non sa dirigere io ho detto io ho spiegato la mia posizione insomma non so ripetervelo andatevelo a vedere la novità qual è che la direzione artistica ha sospeso i tre orchestrali che sono resi diciamo così responsabili di questa di questa protesta ne ha sospesi due per una settimana sospesi dal lavoro dallo stipendio e un terzo orchestrale credo solo per un giorno quindi una sospensione più lieve ora la questione che in diversi mi avete posto anche tramite messaggi in questi giorni è ma a la direzione artistica può fare una cosa del genere b è giusto che lo faccia partiamo dalla parte facile si dire artistica può fare una cosa del genere allora mediamente l'orchestra non come dire non ha il diritto di esprimersi come un unico organo a livello stampa a meno che non ci sia una questione sindacale in atto e allora ci sono delle apposite figure preposte a farsi da portavoce anche nei confronti della stampa quindi questo cosa significa che un orchestra non può criticare una scelta artistica certo che può farlo può farlo in diverse maniere con alcune proteste più più suddole che vengono percepite magari solo dagli detti lavori altre proteste più eclatanti come è stato in questo caso il punto di questa questione è stato che la direzione artistica non ha approvato particolarmente non tanto la libera espressione di uno due o tre orchestrali che viva dio dovrebbero avere il sacrosante diritto di dire come la pensano finché la cosa non dovesse costituire il reato ma il fatto che questa posizione è stata esposta o è stata interpretata dai giornali come manifestazione non di troppestali ma di tutta l'orchestra per cui da questo punto di vista sarebbe molto grave se si impedisse a qualcuno di pronunciare la propria libera e democratica opinione questa cosa sarebbe di una qualità estrema e sicuramente e sicuramente il fatto di andare a sospendere qualcuno non è come dire non è certo un invogliare altri colleghi a fare altrettanto è un po come il calcio i calciatori prendono le ammunizioni a volte prendono le sospensioni a volte prendono le squalifiche anche per lungo tempo in caso ovviamente di fatti gravi però poi sapete che sono anche tante situazioni in cui magari un calciatore ha fatto delle cose magari che dal punto di vista sportivo non costituiscono specificamente un illecito però comunque sono delle cose che sono praticamente eclatanti o ritenute moralmente sbagliate così via e quindi il calciatore si prende una lunga squalifica e in certi casi addirittura viene riuscito il contratto nei casi più gravi per cui la direzione artistica poteva fare questa cosa si la poteva fare io credo che i professori d'orchestra quando esprimono il loro sacrosanto parere debbano fare sempre molta attenzione a chiarire al giornalista se stanno esprimendo il loro parere personale e in tal caso quello che nessuno del mondo li possa censurare o se stanno esprimendo il parere dell'orchestra però per esprimere il parere dell'orchestra ci sono delle figure specifiche che sono le prime parti che sono i rappresentanti sindacali e così via non dimenticate mai però una piccola un piccolo dettaglio prima di andare in chiusura se io orchestrale critico un direttore orchestra implicitamente sto criticando chi il direttore orchestra l'ha scelto cioè la direzione artistica che è anche quella che diciamo così mi paga lo stipendio non è esattamente così per farvi capire comunque sia è il mio capo diciamola così il mio superiore dal punto di vista gerarchico e quindi voi capite che io orchestrale posso sì contestare finché voglio un direttore che poi magari non verrà più o verrà un'altra volta per qualche una produzione anno prossimo chi se ne frega con la direzione artistica ho a che fare tutti i giorni è esattamente come il mio amministratore delegato di un'azienda o il mio titolare di un'azienda e così via insomma è il capo ok il boss per cui legittimo sacro santo che ognuno esprime la propria opinione però poi questo comporta evidentemente le serie di relazione che in certi casi portano a un inclinarsi dei rapporti fra i professori d'orchestra e la direzione artistica scrivete nei commenti cosa ne pensate se è stato giusto la sospensione di questi tre orchestrali e mi raccomando non scannatevi stiamo solo parlando di musica alla prossima grazie a tutti